E Radio Radicale, siamo col Vice Presidente della Camera Fabio Rampelli per parlare con lui di una disputa artistica tra l'Italia e la Germania, quella che riguarda il discobolo di Lancellotti, che è una copia del discobolo di Mirone che venne ritrovata alla fine del 1700 nel rione Esquilino di Roma. Allora, questa grande opera d'arte, che è una delle più apprezzate tra le copie del discobolo di Mirone, è stata oggetto di diverse razzie. Quando ci fu l'invasione napoleonica nel nostro paese, Napoleone se la portò a Parigi. Quello stesso Napoleone, che è stato oggetto anche di una polemica perché si ricorderà, lei aveva fatto spostare un quadro di Napoleone da una sala all'altra perché lo aveva accusato di aver depredato le opere artistiche italiane. Questa opera era finita in Germania alla fine degli anni Trenta, proprio su esplicita richiesta di Hitler, nonostante il parere contrario di Bottai, ci fu tutta una disputa. Adesso la questione è ritornata di nuova attualità perché il direttore del Museo Massimo aveva chiesto la base del discobolo dal Museo di Monaco, dove era stato portato alla fine degli anni Trenta, e da lì il Museo di Monaco ha chiesto indietro il discobolo ed è nata una disputa tra l'Italia e la Germania. Allora, che è successo? Ma appunto, insomma, lei ha fatto una descrizione che faccio i miei complimenti, è puntuale, forse nel citare la questione di Napoleone Bonaparte ha omesso un particolare. Il tema non è stato soltanto quello di aver depredato le opere d'arte da parte di Napoleone italiane, ma anche quello che comunque Napoleone Bonaparte è stato un dominatore, un dittatore, un conquistatore dell'Italia. Noi abbiamo invece lavorato, o comunque chi non lo ha potuto fare per ragioni anagrafiche, si è ispirato e si ispira alla realizzazione dell'unità nazionale, quindi alla costruzione di uno Stato italiano libero e indipendente. Cosa che si è compiuta poi nel 1870 attraverso la nota breccia di Portapia con la quale l'esercito italiano si è impossessato di Roma e ha esibito Roma come sua capitale di lì a qualche mese all'Europa stessa per scongiurare eventuali retromarce, cioè possibili reazioni negative e sovrastanti da parte delle altre nazioni europee, ben più strutturate e più potenti, mi riferisco alla Francia, alla Germania, all'Inghilterra in particolare. Quindi la conquista di Roma è stata il suggello per far diventare la realizzazione dello Stato unitario italiano un punto di non ritorno. E quindi la ragione per la quale io ho chiesto che Napoleone Bonaparte fosse collocato in un'altra sala, più consona all'esposizione di opere d'arte, perché comunque è oggettivamente meraviglioso quel quadro, è per il significato politico che aveva la sua presenza invece nel piano nobile della Camera dei Deputati. Io ho fatto anche l'esempio a rovescio di Giulio Cesare, se esistesse una sua riproduzione in terra francese, difficilmente avendo Giulio Cesare conquistato la Francia in epoche remote, avrebbe trovato asilo nel palazzo dell'Assemblea nazionale francese, magari sul piano del suo stesso presidente. Quindi insomma sarebbe stata sicuramente in una galleria, noi l'abbiamo messo qui sempre a Montecidore, in una galleria a fianco a tante altre belle opere. Tra l'altro nella stessa sala dove c'è la Gioconda, nella sala Aldo Moro. Esatto, notoriamente la Gioconda è stata realizzata da Leonardo da Vinci. Ma quella era una copia, quella che c'è qui? Quella che c'è qui non è una copia, è un originale però di altra scuola, di diversa realizzazione, molto simile ma non uguale. Ma insomma la Gioconda ci porterebbe molto lontano, quindi evitiamo di parlarne. La Germania ha sollevato secondo me un tema che il nostro ministro per la cultura, Gennaro Sangiuliano, sta giustamente sviluppando. Perché in epoca di Unione Europea in particolare, insomma non è che stiamo parlando delle relazioni tra l'Italia e il Venezuela, tra gli Stati Uniti, ci sono accordi bilaterali, alleanze eccetera, però l'Unione Europea è la casa di tutti gli Stati nazionali che afferiscono all'Europa. Quindi che in Germania ci possano essere delle opere d'arte o in Francia trafugate nelle epoche delle guerre tra paesi europei, che si spera possano essere definitivamente archiviate nell'epoca moderna, con la nascita in particolare proprio dell'Unione Europea, penso che non abbia molto senso, non ha senso neanche mortificare la Grecia, perché anche la Grecia è vittima di razzie vere e proprie e di opere d'arte, opere di archeologia in particolare che sono state trafugate o furbescamente acquistate, o acquistate da dittatori e quindi, insomma, vanno dittatori a conquista e come se non avesse acquistato niente, perché va da sé che dietro il prezzo economico c'è comunque l'esercizio del suo potere non democratico. Quindi io penso che la Germania, insieme alla Francia, all'Italia, alla Spagna, alla Grecia, e quindi a Bruxelles, debba mettere ordine a questa materia. Noi riteniamo che le opere d'arte che sono state trafugate nelle azioni di vera e propria razzia, di cui sono state vittime tante nazioni europee, tra cui l'Italia, debbano essere restituite alle nazioni originarie. E questo quindi vale anche per il discobolo e vale anche per il suo basamento. Quindi il discobolo resta in Italia, non ci sono dubbi a riguardo a maggior ragione, perché chi è che l'acquistò fu Hitler, insomma, quindi figurarsi un po' se possa essere... Ecco, il basamento sarebbe opportuno che tornasse in Italia, dove c'è il discobolo, che qui resterà. La sorpresa è che qualche detrattore del nostro paese si sia messo dalla parte di Hitler, dando in qualche modo ragione alla Germania. Certe volte ci sono state tante polemiche che sono sorprendenti. Qualcuno si è scoperto amico di Hitler, insomma, che... polemizzando col nostro paese. Ma guardi, probabilmente, diciamo così, c'è un'ignoranza crassa che talvolta regna sorane attraversa gli schieramenti politici e quindi probabilmente neanche sapeva che il discobolo, diciamo, da un punto di vista formale, sarebbe stato acquistato appunto da Hitler o voluto, l'acquisto sarebbe stato voluto proprio da Hitler, dal capo del nazismo. Probabilmente sarebbe stato più prudente se l'avesse saputa questa verità. Però resta il fatto che esiste comunque in Italia, nella dialettica tra maggioranza e opposizione, un pertugio buio, oscuro, nel quale, pur di far bene alla propria parte, si è disponibile a far male all'Italia. Questa cultura andrebbe stirpata. La sorprende che Mussolini, che aveva un culto dell'arte, sappiamo insomma che cosa... Quanto si è impegnato Mussolini per, diciamo, per le opere artistiche, ha fatto le 42 qui a Roma, ha fatto tante opere pubbliche e ha valorizzato l'arte. In qualche modo avesse venduto poi con la complicità di Galeazzociano questa opera alla Germania. Allora Bottai si oppose a questa cosa, riuscirono in qualche modo a darla a Hitler. Fu un brutto gesto quello di Mussolini, un errore? Sì, sicuramente un gesto assolutamente non condivisibile tra i vari e tanti. Certo, insomma, ci fa piacere constatare che Bottai, invece, anche da Ministro della Cultura, cercò di impedire questa rapina. Però le cose andranno così, è probabile che ci fossero chissà quali altri accordi, diciamo, coperti o addirittura inconfessabili che indussero il regime a liberarsi di scobolo. Ma insomma, non credo che aspetti a noi il compito di indagare, approfondire. Ci sono gli storiografi che possono farlo se desiderano. Io, per quello che mi riguarda, per quello che riguarda il mio giudizio personale, anche da architetto, dichiaro senza ombra di essere smentito, che fu un errore clamoroso. Per fortuna il discobolo comunque è qui. Insomma, la sorpresa è il fatto che Bottai si sia impegnato su questa cosa, considerando poi che lo stesso Rutelli voleva, si ricorderà, negli anni 90, voleva dedicare una via a Bottai e ci furono tante polemiche per quella cosa. In qualche modo, Rutelli, che è anche un altro esperto d'arte, insomma, che credo fosse anche lui, lui viene da una famiglia di architetti, avesse apprezzato il suo impegno, l'impegno di Bottai. Confermo che la famiglia di Rutelli è una famiglia di artisti, nonno, non so se fosse architetto, comunque mi pare che sia stato... Sì, lui ha fatto la Fontana delle Nayadi, quella di Piazza della Repubblica. Sì, è stato l'autore della Fontana delle Nayadi, che è veramente un'opera d'arte meravigliosa, poco valorizzata, perché, insomma, di fatto uno spartitraffico, andrebbe forse riqualificata a Roma tutta quella piazza per poter dare la giusta centralità a quella fontana, dove talvolta si immergono turisti e disperati di varia provenienza. Così come il nonno di Rutelli ha realizzato il mezzo busto di Giuseppe Mazzini, che è proprio qui, in uno dei corridoi più prestigiosi della Camera dei Deputati. Ma è probabile che il giudizio su Bottai, dato da Rutelli, che pensava di potergli intitolare una strada, anche per, diciamo, la sua resistenza ad alcune decisioni di Mussolini, fosse prematura. Sulla toponomastica andrebbe aperto un capitolo, insomma, infinito, e andrebbero fatti degli approfondimenti, perché, insomma, ci sono tante strade in Italia, in tanti comuni italiani, che sono intitolate a persone che, con, diciamo, il giudizio di oggi, quindi di un sistema democratico strutturato e profondamente condiviso dai cittadini italiani, non sarebbe possibile, insomma. Ci sono state strade intitolate a Stalin, a Lenin, insomma, a persone che sono più che discutibili, sicuramente dittatori, anche persone che hanno fatto parte del fascismo e che però, una volta passato il fascismo, sono diventate democratiche e hanno scelto la sinistra, cosa assolutamente legittima, però legittima tanto quanto altre personalità che hanno fatto parte del fascismo, che poi nel secondo dopoguerra hanno intrapreso un percorso democratico, altrettanto democratico, non è che se uno lo fa a destra non è democratico e per essere riabilitato devi per forza essere di sinistra, insomma. Il fascismo ha coinvolto e travolto tanti soggetti di diverse sensibilità politiche e culturali. Io penso che poi si possa, per ogni caso, metabolizzare gli errori che sono stati fatti, se sono sinceri e se vengono visitati, diciamo così, dai poteri democratici e penso che sia un errore avere delle strade intitolate dei dittatori sanguinari comunisti che stanno ancora lì. Nessuno si è preposto l'obiettivo di andare a cancellarle e magari ci può essere sicuramente qualche persona che ha avuto a che fare con il ventennio che poi si è, diciamo, ha rivisitato criticamente quel periodo storico, tanto per intenderci mi riferisco a Giorgio Almirante, che è stato come molti altri, Giorgio Bocca, Pierluio Spadolini, Dario Fo, Dario Fo, insomma, tra l'altro negli anni Ottanta uscì Democrazia Proletaria, fece uscire un volume dal titolo Spadolini Repubblichino, dove venivano ripubblicati gli articoli di Spadolini durante la Repubblica Sociale Italiana. Certo, Luigi Scalfi, molti parlamentari politici, ministri, sottosegretari, presidenti della Repubblica. Tra l'altro Ingrao scriveva poesie per Mussolini, credo. Ah, questa mi mancava, insomma, quando si dialoga con lei c'è sempre qualcosa da imparare. Quindi, insomma, io sarei un po' più sereno, perché ormai la storicizzazione può diventare un bene importante per poter anche pacificare gli animi e passare a uno sguardo verso il futuro per l'Italia e per la sua comunità. Ha apprezzato il fatto che gli abitanti dell'Esquilino abbiano fatto una manifestazione pubblica per tenere il discopo, no? L'ha trovata una bella, una tra le poche cose belle che possiamo ricordare in questo periodo dove vediamo tante cose? No, sicuramente è stato un gesto importante e positivo, anche perché il rione Esquilino, come tutti sanno, insomma, ormai anche al di fuori dei confini della capitale d'Italia si conoscono le asprezze, il degrado, le difficoltà, talvolta le tragedie che si consumano in questo rione ha bisogno anche di simboli per potersi riscattare. Certo, non basta la permanenza del discopolo che fu rinvenuto all'Esquilino, ci vorrebbe ben altro, su questo ben altro stiamo lavorando, anche per poter delle risposte significative con tante istituzioni pubbliche di diversa natura di estrazione, però verificare e constatare che c'è questa sensibilità da parte dei comitati dell'Esquilino è un fatto positivo perché appunto le immagini, i simboli possono aiutare anche i percorsi di rinascita. Io la ringrazio molto della sua disponibilità per aver parlato con noi del discobolo di Lancellotti, ringrazio il vicepresidente di questa vicenda, ringrazio il vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli di Fratelli Italia. di Fratelli Italia. Grazie a tutti.